si ritornano dall'estate insomma qualche chilo fondamentalmente qualcuno l'ha preso però c'è sempre la possibilità attraverso ormai le nuove macchine di cambiare il tuo stato anche di salute ad esempio quali sono le novità all'interno di questa vostra nuova struttura innanzitutto non ci saranno più scuse perché qua c'è veramente tutto per tutti dal più giovane alla persona più avanti con l'età dai macchinari nuovi cardio ai nuovi macchinari isotonici c'è veramente qualsiasi cosa in più c'è una cosa fondamentale che sarà molto più innovativa nel senso che la tecnologia verrà parte verrà parte veramente del nostro allenamento quindi saremo seguiti 24 ore su 24 con qualsiasi tipo di allenamento noi potremo aiutare e spiegare realmente sul momento come si fa quindi tramite piccoli passaggi che è una semplice app noi riusciremo a seguire chiunque e dare veramente un aiuto a tutti quelli che ce lo chiederanno davvero bisogna crederci e prendersi anche le motivazioni per sapere che fare comunque attività fisica vuol dire stare bene con se stessi ma anche a livello psicologico soprattutto direi che parte tutto da sto bene fisicamente sto bene psicologicamente il sogno di tutti noi è stare bene apparire bene essere performanti qua c'è veramente tutto tutto per diventare o un atleta o comunque stare bene quindi fitness e wellness tutto insieme a 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